Le restrizioni da pandemia non mettono limiti all'obbligo di ricordare. Così il 27 gennaio, giorno della memoria, a 77 anni dalla liberazione di Auschwitz, diventa la responsabilità della memoria. Titolo di una giornata che ha visto istituzioni e scuole pesaresi distanti fisicamente, ma unite in una grande diretta streaming, trasmessa anche da Rossini TV, che ha convogliato in collegamento tutti gli istituti superiori pesaresi e il Conservatorio Rossini nell'esposizione di elaborati frutto del lavoro durante l'anno scolastico. Otto scuole che hanno esposto in podcast laboratoriali le otto oppressioni della persecuzione nazista codificate in triangoli. Otto triangoli per commemorare la discriminazione a ebrei, omosessuali, prigionieri politici, delinquenti comuni, emigrati, asociali, rom e testimoni di Geova. Marco Perugini, presidente del Consiglio Comunale, è stato regista della videoconferenza assieme al Liceo Marconi e ha voluto aggiungere anche una nona oppressione spesso dimenticata. Vi volevo parlare appunto di quello che oggi non troviamo nei triangoli. I triangoli non parlano appunto di questa eutanasia nazista di cui si è parlato forse poco. I disabili mentali e coloro che erano affetti da malattie genetiche erano per i nazisti coloro che vivevano vite indegne di essere vissute. Per questo hanno vissuto una discriminazione frutto di un disegno molto preciso, quello dell'Action T4, l'Azione T4. Loro venivano uccisi, venivano perseguitati chiaramente solo perché erano nati diversi. Battaglia all'odio che hanno ricevuto l'applauso in streaming del prefetto Ricciardi, dell'essinda Corici, dell'assessora alla crescita Camilla Murgia e del direttore dell'ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni. Più il tempo passa, più il ricordo sbiadisce, più diventano flebili le voci dei sopravvissuti, più voi ragazzi avete la responsabilità di conservare la memoria di questi tragici e terribili accadimenti, perché non si abbiano più a ripetere. Grazie.